Nel video di ieri ragazzi mi sono preso una marea di critiche, veramente tantissime critiche per aver detto che la Juventus martedì si presenterà da sfavorita per l'ottavo di finale di Champions League. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, perché non mi fa piacere, ma la partita di questa sera mi conferma che un po' avevo ragione. Perché io ragazzi posso essere anche d'accordo con voi sul fatto che probabilmente l'80% dei nostri giocatori titolari giocherebbe titolare nella squadra del Villareal, ma una squadra non si fa con i nomi ragazzi, una squadra non si fa con i nomi. E se voi pensate che la Juventus si presenti da favorita martedì, credo che secondo me non abbiate imparato la lezione degli ultimi tre anni che la Juventus ha subito proprio in Europa. E dico questo ragazzi purtroppo perché tutti gli altri anni ce ne siamo sempre presentati con quella arroganza, con quella fiducia nel dire siamo nettamente più forti di questi, poi questi qua ci hanno sempre preso a sberle. Ma io so da dove viene questa Juventus, perché io ve l'ho anche detto alla fine del calcio mercato, per quanto Zakaria e Vlaovic abbiano portato enormi cambiamenti a questa squadra, tant'è che ci ho anche fatto dei video sopra tattici, abbiamo approfondito il tema, e questo è fuori dubbio. Ma ricordiamoci da dove viene la Juventus e ricordiamoci quali sono i problemi della Juventus, perché nessuno ha la bacchetta magica ragazzi, nemmeno Vlaovic. E vi vorrei ricordare che Vlaovic martedì sarà la presenza numero zero in Champions League. Quindi se io guardo l'ultimo periodo della Juventus, se io guardo l'ultimo periodo in campionato del Villareal, stiamo parlando della quinta in classifica italiana contro la settima in classifica nella Liga Spagnola, guardo, vado a confrontare gli ultimi due, i periodi di queste due squadre, e secondo me il Villareal ci arriva anche un pochino più in fuono, ma soprattutto la Juve si presenta con la necessità di sfatare un tabù, che ormai è diventato degno di questo nome, no? Perché la Juventus deve riuscire a passare agli ottavi di Champions League. Andiamo a scaricare OneFootball, andiamo a scaricare OneFootball perché per quanto dia fastidio e faccia fatica a farlo io stesso, la possiamo utilizzare per riguardare gli highlights della partita e per leggere le parole dei protagonisti. Io la utilizzerò, visto che dopo dovrò uscire per leggere le parole di Max Allegri, di tutti gli altri giocatori, e per cominciare a prepararci mentalmente per la partita di martedì. Cominciamo ad andare in fila un attimo ragazzi, fatemi chiudere un attimo questo discorso qua. Perché essere sfavoriti e presentarsi da sfavoriti non significa dare una giustificazione, perché qualcuno mi ha criticato del fatto di dire non diamo un alibi o una giustificazione sul fatto che si potrebbe uscire agli ottavi di finale per il terzo anno di trofila contro una squadra che è sulla carta inferiore. Io ho detto no, non sto mica dicendo che questo è un alibi, non sto mica dicendo che questa è una giustificazione, anzi, io preferisco molto di più, molto di più presentarmi là da sfavorito e dare a loro una lezione di calcio piuttosto che presentarmi là da favorito e poi tornarmi a Torino con la coda tra le gambe ragazzi. Significa solamente essere realisti, realisti e consapevoli di quelli che sono i problemi attuali di questa squadra, che non ha vinto ancora uno sconto diretto e che quando comunque si tratta di vincere delle partite molto difficili fa molta fatica come questa sera, fa molta fatica. Allora io martedì mi presenterò, mi presenterò con uno spirito diverso rispetto agli altri anni, mi presenterò con lo spirito di chi dice ok dovremo soffrire, dovremo correre senza il pallone, sarà magari una partita sporca, faremo molta fatica perché questi magari ci verranno a palleggiare in faccia perché questi magari faranno dell'intensità il loro punto di forza, cosa che magari la Juve soffre perché tutto il calcio italiano ne soffre e ne sono consapevole di questo e quindi non faccio l'errore di aspettarmi di andare là a fare una passeggiata di salute, tutto l'opposto ragazzi, tutto l'opposto. Il paraggio di questa sera mi infastidisce e mi infastidisce in maniera notevole come probabilmente potrete vedere, avrò sicuramente il volto di uno tutt'altro che felice e sereno. Mi infastidisce perché primo non me l'aspettavo e perché la Juventus doveva fare un filotto di vittorie da qua fino alla fine, diciamo, fino alla sosta per le nazionali e questo pareggio disinnesca il gol al 92esimo di Danilo, l'aveva detto anche ieri Allegri in conferenza stampa. Un pareggio totalmente inutile, adesso noi dobbiamo tifare per italiano ma potenzialmente la Fiorentina è a più tre dalla Juventus e noi siamo quinti in classifica con le partite che si riducono e con l'acqua che comincia, ragazzi, sempre ad alzare il livello e a venire sempre più in gola. È stata una brutta partita, non mi aspettavo questa prestazione, non mi aspettavo questa battuta di arresto, mi infastidisce, ragazzi, perché è certezza matematica probabilità di evento del 100% che la settimana prima della Champions League la Juventus comincia a perdere i pezzi. È pura matematica, 100% di probabilità di accadimento. E in settimana comincia a farsi male Bonucci e durante la partita comincia a farsi male Rugani e poi si fa male Pellegrini e poi Dybala chiede il cambio che non ci sarà di sicuro martedì, non ci sarà di sicuro perché qualcuno ha parlato di cambio preventivo. Ve lo dico adesso, non ci sarà Paolo Dybala martedì, ragazzi, perché tutti gli altri infortuni che si ha fatto aveva lesione zero e si è fatto due mesi fuori, quindi state pur certi che martedì Paolo Dybala non ci sarà, quindi scordiamoci il credente pesante. Qual è la motivazione, ragazzi? Io non lo so, io non lo so. E la paura è la paura di giocare la Champions, perché se deve essere questo, allora ragazzi facciamo posto a qualcun altro. Perché se io tutti gli anni mi devo preparare psicologicamente, sono qua che fremo, non vedo l'ora di tornare a giocare la Champions League, non vedo l'ora di giocare quella partita e tutte le volte puntualmente casca l'asino perché cominciamo a perdere tre o quattro giocatori, tra cui anche quelli più importanti, allora dico, boh, un anno va bene, il secondo anno è sfortuna, il terzo anno è un caso, è il quarto anno, il quinto anno di fila, ragazzi cominci magari a dire, boh, allora forse qua davvero c'è qualcuno che ha le noccioline al posto dei coglioni, no? Perché di questo poi purtroppo si tratta. Questa sera, ragazzi, non per dare un alibi o per dare una giustificazione, ma tutta la squadra aveva un po' la testa a martedì, perché Dybala si è risparmiato, perché se penso ad altri giocatori si sono risparmiati, un Locatelli riconoscibile, anche un po' magari per atteggiamento, lo stesso Allegri, no? Che al settantesimo è stata quella lì, alzare bandiera bianca, no? Nel momento in cui mi togli Locatelli e Vlaovic per mettere dentro Ken e Arthur, quello è alzare bandiera bianca e dire per stasera lasciamo che le cose vadano così, ci portiamo a casa un altro pareggio che comunque oggi fa male, oggi pesa tantissimo in negativo sulla classifica e sulla nostra corsa alla qualificazione, ma che poi, magari a lungo andare, come dice lui, potrebbe fare la differenza, però si dice, pensiamo a martedì, cerchiamo di risparmiare le energie, Vlaovic oggi, ragazzi, male, è forse uno dei peggiori in campo, ma chi è che oggi si salva, sinceramente? De Litt, De Litt possiamo far salvare? Matthijs De Litt, che viene da un periodo eccezionale, no? È un periodo dove Matthijs si è sicuramente preso la difesa, ma non solo la difesa, si è presa l'intera Juventus, vedremo poi in estate se sarà rinnovo o se sarà addio. Ci tocca tifare italiano, ragazzi, ci tocca tifare la Fiorentina, la Fiorentina di Dusan Vlaovic, perché se l'Atalanta fa tre punti al Franchi, per noi la corsa diventa davvero molto, molto, molto dura e molto pesante, serve veramente una botta psicologica, anche prima della Champions, durissima da digerire. La sensazione, purtroppo, e dico purtroppo, perché non ci godo, ovviamente, ma purtroppo è che non siamo pronti per martedì. Grazie a tutti.